Il barocco è come la vita, irrazionale, dinamico e contraddittorio. Così Dino Formaggio definiva questo stile. Impossibile restare indifferenti alla monumentale ricercatezza di palazzi e fontane di questa parte della Sicilia. Facciate intarsiate, preziosi interni, teste di leone e satiri scolpiti, sono i particolari di città con trame urbane che seguono un unico stile, ma che differiscono nei materiali utilizzati, passando dal grigio scuro di Catania fino al color miele di noto. Grazie